Mafia ha confiscato i beni per 18 milioni agli eredi di un imprenditore catanese operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani. Emergenza sangua al reparto di onco-ematologia pediatrica del civico di Palermo, l'appello a donare. Riflessioni sulla città Ance, Palermo celebra 80 anni dalla costituzione della prima associazione di imprese di lì in città. È già iniziato e si concluderà lunedì a Taormina la tredicesima edizione del Taubuk Festival Si Sicili. Record di ascolti di Tele One, oltre un milione e mezzo di telespettatori hanno seguito la nostra programmazione giornaliera attestandoci ai primi posti fra le TV regionali siciliane. Bentrovate alla prima edizione di Media News di venerdì 16 giugno. Come avete sentito dai titoli a Catania, confiscati i beni per 18 milioni agli eredi di un imprenditore operante nel settore della raccolta di rifiuti solidi urbani, ritenuto contiguo alla criminalità organizzata. La DIA, confiscato beni per un valore di 18 milioni di euro agli eredi dell'imprenditore catanese Vincenzo Guglielmino, deceduto nel 2018 operante nel settore della raccolta di rifiuti solidi urbani e ritenuto contiguo alla criminalità organizzata. L'imprenditore nel 2017 era stato arrestato nell'ambito dell'operazione di polizia Piazza Pulita, coordinata dalla DIA di Catania, in quanto ritenuto responsabile del reati di tentata estorsione aggravata e danneggiamento, aggravate al metodo e dalle modalità mafiose commesse nei confronti di una società che gestiva il servizio di raccolta di rifiuti a noto. Nel 2018 l'uomo era stato nuovamente arrestato alla DIA di Catania nell'ambito dell'operazione Gorgoni, anch'essa coordinata dalla DDA, poiché è ritenuto responsabile di avere preso parte all'associazione mafiosa per concorsi in corruzione, inturbativa d'asta ed intestazione fittizia di beni, reati tutti aggravati per averli commessi con il metodo e le modalità mafiose. Secondo gli investigatori, l'imprenditore catanese era riuscita a costruire e sviluppare il suo impero economico convivendo attivamente proprio con il clan con il quale era nato un vero e proprio rapporto sinallagmatico di reciproco vantaggio. Con l'odierno provvedimento, il Tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione, ha definito l'impresa mafiosa affermando che l'attività imprenditoriale si è infatti costituita e progressivamente sviluppata grazie al costante contributo offerto dal clan di riferimento, un investimento quest'ultimo tale da giustificare per un verso la spendita della capacità di intimidazione del gruppo mafioso e per un altro verso la partecipazione dello stesso gruppo criminale agli utili di impresa. Sottoposto quindi a confisca il patrimonio di Guglielmino, si tratta di due aziende operanti del settore della raccolta e gestione dei rifiuti, unità immobiliari, un'autoveicola e rapporti bancari e finanziari. Dopo oltre due settimane la città di Catania attende ancora che il neosindaco Enrico Trantino proclami la giunta. Sono trascorsi 16 giorni dall'insediamento del nuovo sindaco di Catania Enrico Trantino. Tra brevi apparizioni e visite istituzionali si attende il varo della nuova giunta. Non ci dovrebbero essere problemi per i già designati Sergio Parisi, Alessandro Porto e Andrea Guzzardi in quota Prima Italia Lega. Altri nomi stanno circolando ma ancora non confermati. Certo, siamo già in notevole ritardo. La città si aspetta concretezza e soprattutto fatti. In questo momento storico Catania è sepolta viva dalla spazzatura. Bande di ladri cercano di colpire ovunque. Ricordiamo la cattura da parte di un cittadino in via Mandrà. Lavoro e progetti in tal senso manco a parlarne. Insomma, abbiamo capito che sono state aperte le spiagge 1, 2, 3, solarium eccetera eccetera. Ma quando questa città comincerà a deliberare e concretizzare il programma elettorale? Direi che ora di dire basta alle beghe politiche per una poltrona di assessore. Iniziamo a restituire dignità a questa nostra cara Catania. Nel frattempo continua e inesorabile l'agonia di tutti i catenesi nella speranza che presto arrivi questo comunicato stampa con data e ora mettendo fine e staccando la flebbo per una rinnovata azione di governo. Chi vuole però da questo fine settimana potrà andare al mare, sì sì, alla playa sperando che non ci rimanga solo questo. Cambiamo argomento, emergenza sangue al reparto di Onco e Ematologia Pediatrica dell'Ospedale Civico di Palermo, l'appello dell'Associazione Siciliana Leucemia e Tumori dell'Infanzia. Sono 150 in Sicilia ogni anno i bambini che si ammalano di leucemia o tumore. Il brusco calo di donazioni del sangue durante l'emergenza Covid non ha più visto una ricrescita. I bambini che fanno chemioterapia necessitano di emoderivati o emocomponenti per le terapie di supporto. Per questo l'Asgli, l'associazione che si occupa di leucemia e tumori infantili, lancia un appello. Per donare basta andare al centro trasfusionale al Padiglione 10 Piano Terra dell'Ospedale Civico di Palermo dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 11.30. Come associazione Asliti abbiamo accolto l'appello del nostro primario per attivarci in una campagna di sensibilizzazione a favore delle donazioni di sangue, che sono importantissimi per i nostri piccoli pazienti perché a seguito delle cure spesso hanno bisogno di trasfusioni non solo di sangue ma anche dei suoi derivati come le piastrine eccetera. Sono tanti i bambini, le trasfusioni vengono applicate anche per quanto riguarda le monoglobuline, quindi per i pazienti affetti da immunodeficienza. Quindi quello che noi chiediamo è di attivarci tutti, richiamarci al senso del dovere, alla propria coscienza a recarci al centro trasfusionale dell'Ospedale Civico di Palermo per poter fare un atto d'amore nei confronti dei piccoli pazienti. Ricordiamoci tutti in prossimità dell'estate di andare a donare il sangue perché da lì si estraggono tutte le immunoglobuline, le piastrine e quant'altro serve ai nostri bambini per poter fare le trasfusioni e comunque per poter continuare il loro ciclo di cura, non soltanto per i nostri bambini ma anche per tutti i pazienti che possono avere bisogno del sangue. Il sangue e vita non si produce in laboratorio, quindi tutti noi dobbiamo avere la responsabilità appunto di questo gesto d'amore che può servire anche per noi, quindi andate tutti a donare il sangue. Dove? Presso il centro trasfusionale dell'Ospedale Civico di Palermo. Per chi volesse avere ulteriori informazioni ci può contattare tramite il nostro sito libridicrescere.it, lì ci sono tutti i nostri riferimenti telefonici, contattateci e vi diamo tutte le informazioni per poter fare questo gesto d'amore nei confronti di tutti. Stato di calamità per le forti, piogge di maggio, lo ha chiesto l'assessore regionale all'agricoltura Luca San Martino, mentre ci aspetta l'estate. L'estate sta finendo, vi ricordate questa vecchia canzone dei Rigueira? Ma a quanto pare non è mai arrivata. Il governo regionale, su proposta dell'assessore San Martino, ha dichiarato lo stato di calamità per i danni prodotti dall'ondata di maltempo dello scorso mese di maggio, caratterizzato da forti piogge e che ha colpito in maniera diffusa tutto il territorio regionale. Contestualmente è stato approvato il documento tecnico sulla base del quale la Regione chiederà al Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare una misura straordinaria per ristorare i agricoltori e i produttori siciliani per i danni subiti, anche in considerazione del fatto che il Fondo di Solidarietà Nazionale non copre quelli causati dal vento. Ma il maltempo ha le ore contate e sì, già dal fine settimana arriva l'anticiclone africano che, con la prima ondata di caldo nell'estate 2023, porterà le temperature in netto aumento con primi picchi over 30 entro domenica, ma al centro-sud nelle zone interne si potranno sfiorare anche 34-36 nella prossima settimana. E allora, bentornata finalmente estate. Ance Palermo celebra 80 anni dalla costituzione della prima associazione di imprese edili in città e dà il via a una serie di appuntamenti per ragionare sul futuro del capoluogo. Vediamo. In occasione degli 80 anni dalla costituzione della prima associazione di imprese edili a Palermo, avvenuta nel 1943 in una città ancora sotto le macerie dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, Ance Palermo organizza una serie di appuntamenti, riflessioni sulla città, nel corso dei quali saranno affrontati i temi che riguardano il futuro del capoluogo siciliano. Oggi il primo incontro organizzato in collaborazione con gli ordini professionali di architetti e ingegneri. Il centro storico di Palermo è, dal punto di vista urbanistico ed infrastrutturale, una risorsa fondamentale. Abbiamo avuto un lungo periodo durante la primavera di Palermo di recupero, però assolutamente frastagliato. Occorre avere con i nuovi strumenti normativi una visione più moderna, cercare di dare innanzitutto a questo territorio infrastrutture pubbliche a servizio poi degli investitori privati. Noi ci crediamo e sono molto lieto anche di una collaborazione con gli ordini professionali ormai strettissimo organica che è il là per un ulteriore slancio verso questa amministrazione comunale al fine di cooperare tutti in modo trasparente e competente per rilanciare il centro storico, principale strumento di rilancio dell'edilizia privata a Palermo. L'argomento è difficile, direi non spinoso, anzi deve essere bello, soprattutto se come pare che sia volontà di questa amministrazione c'è quello di dedicare la propria attenzione al centro storico, vera e propria città nella città per superare le norme che hanno sin qui regolato il centro storico con quelle norme del piano particolare esecutivo molto rigorose, che lo hanno salvato sicuramente da assalti speculativi o similari, ma che però ha avuto il torto di non dare il giusto spazio all'architettura moderna, contemporanea, purché fosse architettura di qualità. È venuto il momento proprio di rinnovare l'idea di centro storico, perché nel 1993 il PPE aveva la necessità di tutelare una parte preziosa della città che versava in una situazione di drammatico disastro e anche insicurezza. Oggi il centro storico ha avviato un percorso molto solido e anche da cui non si può tornare indietro, però bisogna rimetterlo dentro un'idea di città. Significa che devono camminare insieme le azioni specifiche sul centro storico e le azioni complessive sulla città. A Lingua Glossa è chiuso da mesi il centro di raccolta rifiuti. L'opposizione denuncia che la ditta non rispetta il contratto e l'amministrazione non interviene. Abbiamo sentito i consiglieri di minoranza e la risposta del sindaco. Da due mesi il centro comunale di raccolta di Lingua Glossa, da anni punto di riferimento per i cittadini, non è più funzionante. Una situazione che sta creando non pochi disagi sul territorio etneo. A lanciare l'allarme sono i consiglieri comunali di minoranza che ascoltiamo. È chiusa e non capiamo il perché. Era un servizio ottimo che in questi anni scorsi i cittadini usufruivano e erano comunque entrati nella mentalità di avere un luogo sul territorio del comune di Lingua Glossa dove poter portare quello che normalmente è difficile, che viene smaltito con il trasporto casa per casa. Questa abitudine da un paio di mesi è stata persa. Conseguentemente la mia opinione è che i cittadini, avendo perso questa possibilità sul territorio, metteranno quello che prima portavano qua dentro i sacchi dell'indifferenziata. Il risultato qual è? Il risultato è che malgrado anche l'SRR dice che l'obbligo è della ditta, il centro di raccolta viene chiuso, secondo me sbagliando. Perché? Perché nel momento in cui la ditta non si attiva per invece migliorarlo e implementarlo dove dovesse essere fatto, va fatta un'azione contro la ditta. È la stessa azione che va fatta. Non possiamo dare penali alla ditta e poi pagargli le mensilità per intero. È vero che questa cosa ricadrebbe sugli operai, però è anche vero che altrimenti così diventa un gatto che si morde la coda. Con l'ufficio tecnico stiamo mantenendo un rapporto serrato sia con la nuova ditta subentrata nell'aprile di quest'anno sia con l'SRR. Ciò al fine di garantire il miglior servizio possibile è di non vanificare i sacrifici che negli ultimi vent'anni i lingua glossesi hanno fatto per arrivare ai livelli di raccolta differenziata che costituiscono un bando per lingua glossa. Con specifico riferimento al centro di raccolta stiamo approfondendo tutta la documentazione a partire dalla progettazione per arrivare all'apertura e per arrivare alle contestazioni che vengono mosse dalla ditta in modo tale da arrivare ad una soluzione definitiva nel più breve tempo possibile. Restiamo in tema di rifiuti raccolta differenziata a Palermo. Vediamo la situazione al centro storico tra limiti logistici e mancato senso civico. Resta ancora alta l'emergenza di rifiuti ingombranti lasciati in maniera selvaggio in alcune zone della città. La raccolta differenziata a Palermo divide il centro storico sia per motivi logistici che per mancato senso civico da parte di alcuni cittadini. Tra i grossi limiti per un corretto conferimento dei rifiuti c'è anche il continuo abbandono degli ingombranti come spiega Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione. Purtroppo il centro storico, quindi in questo caso la prima circoscrizione, è tagliata in due per quanto riguarda ad esempio la raccolta differenziata. Basta pensare che in via Roma, scendendo da via Roma con le spalle all'orologio della stazione, il lato destro ha la raccolta porta a porta, il lato sinistro no. Questo chiaramente facilita per coloro che non intendono fare la differenziata di buttare tutto quanto nel lato sinistro di via Roma. Quindi questo è un problema, ma soprattutto l'altro problema sono gli ingombranti. Non si riesce a sconfiggere questa piaga dell'abbandono dell'ingombrante con una certa facilità. Chiaramente il cittadino, quella parte di cittadini che si ostina a non avere il senso civico, ha tutte le responsabilità perché negli ultimi anni sono venute fuori diverse isole ecologiche dove è possibile portare il tuo televisore, il tuo armadio o il tuo divano senza pagare nulla. Quindi se ci sono anche molti ingombranti per strada è una cattiva abitudine da parte di chi non ha il senso civico e il rispetto della città. Storia della Banca d'Italia, formazione ed evoluzione di una banca centrale. Questo è il tema dell'incontro che si è svolto oggi a Palermo al Dipartimento di Scienze Politiche alla presenza di Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia. Siamo alla Facoltà di Scienze Politiche di Palermo dove si sta svolgendo un convegno sulla storia della Banca d'Italia fra i relatori e il governatore Ignazio Visco. È un evento che ha una vesta accademica perché ricorda un pezzo di storia, 50 anni raccontati da Toni Ordo e la Banca d'Italia e raccontati evidentemente da Visco hanno un senso di attualizzazione perché la Banca d'Italia oggi sempre di più riveste questo ruolo di garanzia dell'affidabilità dei risparmi dei cittadini. L'immaginario collettivo ogni cittadino sa che poi alla fine c'è un ente supremo oltre le singole banche che vengono viste un po' male diciamo dai cittadini ma la Banca d'Italia riveste ancora questa caratteristica di ente governativo di controllo delle attività creditizie di ogni singolo ente. L'università è quello di far conoscere questi fenomeni, renderli popolari perché sono argomenti che hanno un tecnicismo ancora troppo elevato per la comprensione del pubblico cittadino quindi il nostro compito è ancora una volta quella di tradurre eventi che poi rimangono spesso misconosciuti o non correttamente interpretati dalla gente in chiave anche di traduzione più semplificata. L'evento di questa mattina oggi ha anche questo senso non è soltanto un evento di storia dell'economia italiana ma anche un modo per fare un'economia raccontata come quella che i divulgatori, noi siamo i divulgatori di fatto come dentro l'università devono fare. Partita anche a Messina la campagna di raccolta firme sulla proposta di legge della CISL nazionale sulla partecipazione un posto al tavolo. Con la prima firma posta al segretario generale della CISL a Messina, Antonino Alibrandi, è partita anche in città la campagna di raccolta firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare della CISL nazionale, un posto al tavolo che prevede la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione. A Piazza Caroli il primo banchetto allestito al sindacato che verrà replicato nei prossimi mesi e tanti altri gazebo saranno organizzati anche nei comuni di tutta la provincia. Con questa iniziativa vogliamo dare valore alla partecipazione attiva dei lavoratori all'interno dei processi aziendali, quindi alla partecipazione nei consigli di sorveglianza, nei consigli di amministrazione, ma all'interno di tutti quei processi organizzativi che servono a garantire aumenti di saleare, maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro, ma soprattutto divisione anche degli utili e dell'impresa verso i lavoratori, richiamando l'articolo 46 della nostra Costituzione mai attuato che prevede all'interno dei processi di sviluppo aziendale la partecipazione attiva dei lavoratori. Per questo come CISL abbiamo avviato questa campagna che da oggi sarà attiva anche a Messina. Si può firmare tutte le nostre sedi presenti nella città, nelle periferie e in tutta la nostra provincia, ma si potrà firmare anche tutti i gazebo come quelli di oggi che stiamo organizzando in tutta la periferia, in tutta la provincia di Messina e quindi saremo presenti nei luoghi di lavoro per spiegare anche ai lavoratori direttamente questo processo che la CISL vuole mettere in piedi con la proposta di legge che ha presentato. È un impegno straordinario, riteniamo oggi sia il tempo giusto per chiedere la partecipazione attiva dei lavoratori, è un tema che la CISL ha sempre portato avanti e oggi riteniamo che sia il tempo maturo per poterla incamerare e metterla all'interno di un processo di attuazione. Quindi chiediamo ovviamente al governo di prendere questa proposta di legge e farla sua per poterla mettere a terra e dare più partecipazione attiva ai lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro. Sull'isola di Stromboli si potranno installare sistemi di monitoraggio dei fenomeni vulcanologici dell'INGV. Il via libera arriva grazie a un decreto dell'assessore regionale al territorio e ambiente Elena Pagana che modifica l'articolo 11 del regolamento della riserva naturale orientata dell'isola eoliana. Il decreto arriva in tempi rapidi dopo una serie di interlocuzioni dell'assessore con l'INGV, il Dipartimento della Protezione Civile e l'ente gestore della riserva e il successivo parere favorevole del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, organo consultivo per le questioni riguardanti il patrimonio naturalistico della Sicilia. Innovazione 3D, nuove sfide per un futuro in realtà virtuale. Il titolo del convegno che si è svolto oggi a Palermo organizzato da IEMEST. Illustrati i risultati ottenuti dal progetto 3D Lab Sicilia anche tramite un percorso esperienziale di realtà virtuale. Vediamo. Siamo all'interno della sala immersiva dell'Istituto Euro-Mediterraneo di Scienze e Tecnologia di Palermo dove si sta svolgendo il convegno del 3D Lab Sicilia. È un progetto che mira alla creazione di una rete regionale per l'erogazione di servizi innovativi basati su tecnologie avanzate di visualizzazione. Si studiano anche i vari ambiti di applicazione dalla biomedicina all'architettura al turismo. Sono veramente tantissimi gli ambiti in cui queste nuove tecnologie possono essere applicate con enormi vantaggi. Oggi con questa iniziativa presentiamo i risultati del progetto di ricerca 3D Lab Sicilia che ci ha visti come IEMEST, come Istituto Euro-Mediterraneo di Scienze e Tecnologie, in partnership con aziende e altri enti di ricerca italiani, con grande aziende, con la Klein Robotics Capofila e con un'esperienza che ci ha permesso di formare diversi ricercatori, diversi giovani nell'ambito dell'utilizzo delle nuove tecnologie e della realtà virtuale applicate all'ambito della progettazione, all'ambito dell'ingegneria, della ricerca biomedica e biotecnologica, dell'alta formazione, della valorizzazione dei beni turistici e culturali. Noi ci siamo anche dotati di una sala immersiva, quindi di una sala in cui è possibile riprodurre qualunque scenario reale e riprodurlo in uno scenario virtuale, interattivo, immersivo che ci permetterà anche degli sviluppi futuri, di utilizzare queste competenze a supporto delle imprese, del territorio per favorirne l'affermazione. Questo tipo di attenzione, di formazione è estremamente richiesta dal mercato del lavoro, quindi a fronte di una perdita di posizioni lavorative dovute alla mancanza di aggiornamento sulle tecnologie e sulle competenze informatiche, il nostro progetto lavora in questo ambito, crea questa sensibilità e ci conferma, il messaggio lo rivolgo ai giovani, che chi acquisisce formazione nel campo informatico delle nuove tecnologie e della realtà virtuale si apre uno spazio nel futuro professionale. È già iniziato e si concluderà lunedì a Taormina la tredicesima edizione del Taubuk Festival Sii Sisili. Scrittori, intellettuali, scienziati, artisti provenienti da 30 paesi del mondo sono chiamati ad esplorare in oltre 200 eventi i meridiani della libertà. Il tema le libertà, un focus specifico dedicato all'evoluzione storica e concettuale di questo termine, nel suo divenire da appannaggio di pochi a diritto innato dell'individuo, oltre 120 in 5 giorni. Ha preso così il via la tredicesima edizione di Taubuk Festival Sii Sisili, la manifestazione ideata e diretta da Antonella Ferrara, che quest'anno si presenta con una denominazione articolata. Il luogo originario si associa infatti a quello del progetto di promozione turistica pensato dalla regione siciliana per rinnovare il fascino che l'isola esercita da sempre sui viaggiatori. La rinsaldata sinergia con Sii Sisili rinnova e potenzia la collaborazione con il festival, realizzato con il sostegno della regione siciliana, assessorato turismo, sport e spettacolo e con il contributo di assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, Parco archeologico Naxos Taormina, Fondazione Taormina Arte Sicilia, Comune di Taormina, Università degli Studi di Messina e l'Università degli Studi di Catania. I Taobook Award 2023 saranno conferiti sabato 17 giugno nel corso dell'ormai tradizionale serata di gala che il festival organizza al Teatro Antico di Taormina. Con una serata speciale dedicata al divulgatore scientifico Piero Andola si è aperta la quattordicesima edizione del festival letterario a tutto volume, libri in festa a Ragusa. Fino a domenica oltre 50 autori e iniziative per promuovere la lettura. La quattordicesima edizione del festival letterario a tutto volume, libri in festa a Ragusa con la direzione artistica di Alessandro Di Salvo è stata inaugurata ieri sera a Riva al Mare a Marina di Ragusa. Una serata speciale dedicata al divulgatore scientifico Piero Angela con ospiti sul palco in collegamento. Un importante evento culturale che offre ai partecipanti la possibilità di incontrare autori di fama nazionale e di internazionale, parteciperà a dibattiti e conferenze, assistere a performance artistiche e musicali di alto livello. Inoltre il festival rappresenta un'occasione per promuovere la cultura e la lettura, sensibilizzando il pubblico sull'importanza della conoscenza e della condivisione di idee e pensieri. Nella regione d'Italia in cui sappiamo che gli indici di lettura sono i più bassi in assoluto, poter portare gli autori a contatto col pubblico, lavorare con le scuole sui testi, far realizzare alle librerie le vetrine con tutti i libri che verranno presentati già con settimane di anticipo. Insomma noi cerchiamo in tutti i modi di stimolare la lettura e ogni lettore, anche uno, due, tre, quei lettori nuovi che riusciremo a creare sono per noi un piccolo successo. Un'intera sezione è dedicata alla lettura per bambini e ragazzi con l'obiettivo di far crescere nuovi lettori. Il disegno animato nella logica comune è un prodotto per bambini, per divertirli, per fargli vedere le favolette. In realtà non è così, ma pochi l'hanno capito. Lui addirittura non solo ha capito questo, ma l'ha superato nei tempi e ha portato il disegno animato nella scienza. Quindi è stato un salto enorme, però ci voleva solo lui per farlo. Ho avuto il privilegio, diciamo la fortuna, non so nemmeno come definirlo, di lavorare tanti anni con Piero che era come una persona straordinaria, un gentiluomo, una persona con uno stile incredibile. Il suo grande insegnamento è quello della curiosità, cioè essere curiosi del mondo che ci circonda, la curiosità che porta a capire e lui era quello che voleva risvegliare nelle persone, era questa curiosità. Record di ascolti per la stagione televisiva di Tele One. Oltre un milione e mezzo di telespettatori hanno seguito la nostra programmazione giornaliera, attestandoci ai primi posti fra le tv regionali siciliane. Una stagione televisiva di successo, quella della nostra emittente Tele One che negli ultimi mesi ha registrato ascolti record. Quasi un milione e mezzo di telespettatori per la nostra programmazione quotidiana, attestandoci ai primi posti fra le tv regionali siciliane. Siamo stati accanto ai nostri telespettatori con format originali di grande qualità, con tanto spazio all'informazione, all'approfondimento giornalistico, film e intrattenimento. L'unica tv siciliana con sette ore di programmazione giornaliera in diretta. Tanti esperti e professionisti hanno risposto alle domande del nostro pubblico. Abbiamo parlato di medicina, caffè patronato, affari legali, religione, cucina, quiz con premi, sport e spettacolo. Siamo una grande azienda che sta crescendo sempre di più grazie alle tante imprese che scelgono Tele One per promuovere il proprio brand d'eccellenza siciliana. Stiamo preparando la nuova stagione televisiva e siamo alla ricerca di nuovi collaboratori, giornalisti, conduttori televisivi, aspiranti giornalisti, collaboratori di redazione, videoreporter, corrispondenti da tutte le province siciliane, produttori e consulenti di vendita esperti in pubblicità in tutto il territorio siciliano. Per partecipare alle selezioni basta inviare la tua candidatura e il tuo curriculum a 391 117 6872. Tele One è la tv più seguita sui social. Seguici su tutti i nostri canali per essere sempre aggiornato. Entra a far parte anche tu nel team di lavoro di Tele One, la tv dei siciliani. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito appuntamente ai prossimi notiziari di Media News. Grazie.